buongiorno a tutti siamo nella vigna per il classico video dell'estate e andremo a fare degli unboxing prepotenti tagliando del tarango e tante cose interessanti eccolo qua tarango nel suo nuovo parcheggione per terra e bagnato e quindi quest'anno ci dedicheremo a lui alla cura del nostro tanto amato e oggi è una giornata così post pluviale se la tempesta non ci uccide l'uva che quest'anno la vendemmia il primo lavoro della stagione è andato andrà bene e con questa immagine bucolica vi lascio agli in boxing boxing prepotenti di questo materiale ritagliando 8 litri di magnatec 0 30 poi abbiamo di tutto filtri gasolio tanta roba e nego tanto io non mangio quello 0 v 30 anche questa bellissima borsetta casomai vi vorreste portare a tracolla 4 litri di 0 v 30 così che non si sa mai pensate che mi sono anche messo a pulire i tappetini del tarango e oggi piove ma sono stati fuori tutta la notte dopo essere stati lavati ma botta di culo sono sotto il capanno di ethernet e quindi per fortuna non si sono rilavati oggi tagliando del tarango e via quali ci sono stati lavati rimane solo questo da prendersi in carico ma questa è messa male male vediamo anche questa è fatta giro gomme e 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 ed eccoci la chiusura del video in questa estate piena di bestemmioni ma creativa abbiamo bisogno di una chiave da 30 per adrezzare questo terno ruota che non si sa com'è e ed è una vita che è storto però non ce l'abbiamo appuntamento al prossimo video curve strette ricordati di seguire i canali di radio macello grazie facebook 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 instagram youtube che è codeggiato a 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